Non ci sono l'elezione diretta del Capo dello Stato, il tetto alle tasse, non c'è la norma antiribaltone per impedire i cambi di casacca, il Senato non viene abolito, viene abolito soltanto il diritto da parte dei cittadini di eleggere i senatori. Questa riforma va abolita e va mandata a casa il Governo che l'ha promossa.